E' Natale ormai, che regali fai? Non ci stana lì, serve risparmiare Un baglione a tu, un gioco per tua figlia La sciaccia per mamma, un calzino per lo zio Non ti preoccupare perché c'è una gran bella notizia A scendere in campo per sostenere il comparto del commercio di prossimità a Molfetta in vista del Natale E' la Rimban Band, arruolata dall'amministrazione comunale per sostenere il progetto Fai un regalo alla tua città, fai girare l'economia Dopo il successo della scorsa estate, infatti, il comune di Molfetta Ha deciso di rinnovare la proposta dei buoni di valore di 20 euro da spendere nei negozi della città Per sostenere il commercio locale e incentivare lo shopping natalizio a chilometro zero Come funziona l'iniziativa? Effettuando un acquisto di almeno 40 euro in uno dei negozi aderenti all'iniziativa Si riceve un buono da 20 euro da spendere in un'altra attività convenzionata fino al 6 gennaio 2021 E in più si potrà ottenere uno sconto del 10% sul prezzo di cartellino Un motivo in più per favorire le piccole attività locali in questo momento storico Condizionato dalle problematiche legate all'emergenza Covid-19 L'idea di coinvolgere la Rimban Band è del comune di Molfetta e del Duc, distretto urbano del commercio di Molfetta Che si sono affidati all'agenzia di comunicazione I Monelli Che hanno inviato tra le vie del commercio molfettese I cinque scalmanati componenti della band musicale Che hanno ironizzato sulle note di Bad di Michael Jackson Diamo i buoni da 20 euro a Molfett, Molfett Fai shopping a Molfett Vieni a Molfett, Molfett Risparmi a Molfett